Preghiera dei Vespri, martedì, terza settimana di Quaresima. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Accogli, o Dio pietoso, le preghiere e le lacrime che il tuo popolo effonde in questo tempo santo. Tu che scruti e conosci i segreti dei cuori, concedi ai penitenti la grazia del perdono. Grande è il nostro peccato, ma più grande è il tuo amore. Cancella i nostri debiti, a gloria del tuo nome. Risplenda la tua lampa da sopra il nostro cammino, la tua mano ci guidi alla meta pasquale. Ascolta, o Padre Altissimo, tu che regni nei secoli, con il Cristo tuo Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Circonda il tuo popolo, Signore, ora e sempre. Chi confida nel Signore è come il monte Sion, non vacilla, è stabile per sempre. I monti cingono Gerusalemme, il Signore è intorno al suo popolo, ora e sempre. Egli non lascerà pesare lo scettro degli empi sul possesso dei giusti, perché i giusti non stendano le mani a compiere il male. La tua bontà, Signore, sia con i buoni e con i retti di cuore. Quelli che vanno per sentieri tortuosi, il Signore li accomuni alla sorte dei malvagi. Pace su Israele. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Circonda il tuo popolo, Signore, ora e sempre. Chi si fa piccolo come un bambino sarà il più grande nel Regno dei Cieli. Signore, non si inorgoglisce il mio cuore e non si leva con superbia il mio sguardo. Non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze. Io sono tranquillo e sereno come bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato, è l'anima mia. Speri, Israele, nel Signore, ora e sempre. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Chi si fa piccolo come un bambino sarà il più grande nel Regno dei Cieli. Hai fatto di noi, Signore, un popolo regale, sacerdoti per il nostro Dio. Tu sei degno, Signore Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza. Perché tu hai creato tutte le cose. Per la tua volontà furono create e per il tuo volere sussistono. Tu sei degno, Signore, di prendere il libro e di aprirne i sigilli. Perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio, con il tuo sangue, uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. E li hai costituiti per il nostro Dio un regno di sacerdoti e regneranno sopra la terra. L'agnello che fu immolato è degno di potenza, ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Hai fatto di noi, Signore, un popolo regale, sacerdoti per il nostro Dio. Che giova, fratelli miei, se uno dice di avere la fede ma non ha le opere, forse che quella fede può salvarlo? La fede, se non ha le opere, è morta in sé stessa. Mostrami la tua fede senza opere ed io, con le mie opere, ti mostrerò la mia fede. Non chi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli. Non chi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli. Ma chi fa la volontà del Padre mio, entrerà nel regno dei cieli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Non chi dice Signore, Signore, entrerà nel Regno dei Cieli. Se non perdonate di cuore al vostro fratello, neanche il Padre vi perdonerà. L'anima mia magnifica al Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno Beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e Santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato gli umidi. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele e suo servo ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Se non perdonate di cuore al vostro fratello, neanche il Padre vi perdonerà. Memori della parola del Salvatore che ci ha raccomandato di vegliare e pregare per non cadere in tentazione, invochiamo con forza il suo nome. Guarda la nostra miseria, Signore, e abbi pietà. Cristo Gesù, che hai promesso di essere presente in mezzo ai Tuoi fedeli, riuniti nel Tuo nome, donaci la grazia di pregare il Padre in unione con Te nello Spirito. Purifica da ogni macchia il volto della Chiesa a Tua Sposa, donale di camminare nella speranza con la potenza del Tuo Spirito. Tu che ami gli uomini, rendici disponibile all'aiuto fraterno secondo il Tuo comandamento, perché risplenda più viva ad ogni uomo la luce della salvezza. O Re della Pace, fa che in tutto il mondo regni la Tua pace e l'umanità intera sperimenti la gioia della Tua presenza. Apri le porte della Beata Eternità a tutti i defunti. Prepara un posto anche per noi nella gloria incorruttibile del Tuo regno. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Non ci abbandoni mai la Tua grazia, Signore. Ci renda fedeli al Tuo santo servizio e ci ottenga sempre il Tuo aiuto. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen.